Se ci fosse un gioco che invece di abbassare la tua energia, invece di toglierti energia, invece di intontonirti come si dice a Roma o di essere usato come una via di fuga, se ci fosse un gioco che ti permettesse di aumentare il tuo spazio di presenza, di aumentare il tuo spazio di quiete, aumentare il tuo spazio di connessione, darti spunti di gioia, di sentire pienamente che sei vivo, di rallentare. Se ci fosse un gioco che ogni giorno vorresti giocare anche solo per pochi minuti, proprio come tuo compagno di viaggio per la tua piena presenza e connessione. Se invece di usare questo coso semplicemente per fuggire, semplicemente per alla fine perdere un sacco di energia, potresti iniziare ad usarlo proprio come un amico, che lo prendi con l'intento di divertirti, giocare, anche distrarti, ma in quel distrarti, riconnetterti a qualcosa di molto più salutare, a qualcosa di molto più gioioso, a qualcosa che andrà a creare una sana abitudine di connessione, di presenza, di quiete interiore. Ecco, questo gioco nasce da questo grande intento di utilizzare uno strumento che molto spesso ci toglie energia, invece per farci dare più energia, uno strumento che a volte ci sconnette per permetterci di riconnetterci. Basteranno pochi minuti al giorno e saranno minuti che ricercherete per il vostro divertimento e per il vostro benessere fisico, mentale, animico e spirituale. Buon divertimento!